Siamo con Antonio Lattanzi, candidato consigliere nella lista della Federazione della Sinistra in appoggio a Massimo Cerente, sindaco. Antonio Lattanzi, cominciamo con delle precisazioni. Sono passati tre anni dal terremoto, questo è un momento decisivo per la storia e per il futuro della città. Tu hai qualcosa da dire in merito di molto preciso? Sì, innanzitutto una nota positiva che è proprio quella della lista della Federazione della Sinistra. Per la prima volta dall'ascissione del 1998 Rifondazione Comunista e i comunisti italiani decidono di andare insieme alle elezioni perché c'è bisogno di sinistra come è il nostro slogan e quindi abbiamo cercato di riunire almeno un pezzo di sinistra. Ma il nostro progetto è quello di andare ancora oltre perché dobbiamo ricostruire in questo paese e anche in questa città una sinistra vera perché ce n'è veramente una grande necessità. Le vicende di rifondazione comunista in questi cinque anni di amministrazione cialente sono abbastanza note, però qualche precisazione va fatta. Noi eravamo in giunta dall'inizio, io ero assessore, ricoprivo il ruolo di assessore alle politiche abitative e immigrazione e abbiamo, penso, svolto un ottimo lavoro che ci è stato riconosciuto soprattutto dai cittadini. Poi dopo il sisma, nel momento in cui ci siamo resi conto che la città era stata commissariata e le funzioni della giunta municipale erano state espropriate da protezione civile e dal governo, noi unici nel panorama politico cittadino abbiamo avuto il coraggio di una scelta molto forte che è stata quella di passare all'opposizione e conseguentemente di mettersi dalla giunta municipale. Tanto ho fatto e forse adesso qualcuno ci ha dato ragione perché quella situazione che noi vivevamo adesso si sta modificando e le funzioni principali per quanto riguarda la ricostruzione e l'assistenza alla popolazione stanno ritornando progressivamente nelle mani del comune. Tant'è vero che siamo rientrati in giunta con l'ottimo assessore Fabio Pelini, assessore proprio all'assistenza alla popolazione, che sta facendo un ottimo lavoro e ha già prodotto, a parte lo svuotamento degli alberghi e l'occupazione di tutte le case e tutti i map, ma anche questo grande strumento che è il regolamento comunale per la partecipazione. Ecco, a proposito di alloggi, di sistemazioni, questo è ancora ovviamente un problema molto sentito all'Aquila, la macchina comunale secondo voi sarà in grado di gestire dopo le elezioni, ammesso che Carente ce la faccia a vincere queste elezioni, la macchina comunale sarà in grado di caricarsi sulle spalle tutto il lavoro che ci sarà da oggi in poi con la fine della struttura commissariale? Ma veda, noi siamo già preparati a questo perché ci abbiamo già lavorato appunto con il nostro assessore che si è fatto carico di tutta una serie di problematiche, non ultima quella di pubblicare le graduatorie per le assegnazioni che prima sembrava fosse un argomento che non si potesse nemmeno toccare, abbiamo dovuto aspettare che rientrassi il nostro assessore per fare in tre mesi quello che altri non hanno fatto in tre anni. Noi siamo riusciti a occupare quindi tutti i map disponibili, il progetto case, a dare risposte anche ai single, a dare risposte ai frazionisti, a dare risposte a tutti quei cittadini che stavano ancora sulla costa o alla guardia di finanza, alcune situazioni disperate di cui ci siamo fatti carico come partito e soprattutto se ne è fatto carico il nostro assessore. Chiaro che sarà dura gestire le case, noi non eravamo favorevoli a questo progetto, ancorché emergenziale. Oramai ci troviamo queste 19 in New Town e dobbiamo trovare il modo per gestirle. Io sono stato assessore alle politiche abitative e so quando era difficile già per il Comune gestire gli alloggi che aveva a suo tempo. Adesso con questo incremento così enorme i problemi saranno seri ma li dovremo affrontare anche facendo pagare un affitto a chi era in affitto comunque per poter avere delle risorse per la manutenzione, quantomeno la manutenzione ordinaria e straordinaria quando capita di questi immobili. Parliamo di lavoro, l'Aquila è in emergenza continua in ogni settore, nonostante gli sforzi questa crisi che non riguarda soltanto l'Aquila da noi in questa città si sente molto di più. Lei ha ben chiara la situazione, che cosa pensate di fare, quali saranno le vostre iniziative nel caso in cui all'Aquila si dovesse continuare con ad esempio una cassa integrazione che sta evidentemente mostrando tutta la bruttezza di questa crisi economica? Guardi, bacchetta magica non ce l'ha nessuno, soluzioni così pronte credo che non ce l'abbia nessuno, però è appena stato inaugurato il nuovo mercato di Piazza Duomo solo che la piazza non sta più lì, è stata spostata nell'area di Piazza Darmi e lì saranno ricollocati gli ambulanti. Ora si tratterà di sistemare la viabilità per fare in modo che sia facile l'accesso ai cittadini a questo nuovo mercato per dare una speranza e una prospettiva di lavoro ai quasi 100 ambulanti che erano posizionati in Piazza Duomo e che adesso si sono riposizionati nelle aree più strane e più stravaganti della nostra città per cercare di fidelizzare i propri compratori. È chiaro che questo è solo un passo, bisogna andare avanti ancora per la ricollocazione dei negozi a posto fisso molti dei quali ancora sono chiusi dal sisma perché chi non ha avuto la possibilità economica di pagare gli affitti a volte sosi nei nuovi centri commerciali non ha potuto ricominciare ma io credo che l'Aquila debba trovare una strada che probabilmente non è più quella dell'elettronica, non è più quella dell'industria ma è quella del turismo quella del turismo di qualità e quella della riqualificazione del nostro ambiente, del Gran Sasso ecco perché noi diciamo come imperativo basta il consumo di territorio e attenzione a quelli che sono i beni pubblici l'acqua e tutto quello che noi abbiamo e fare di questo territorio un volano per lo sviluppo turistico perché altrimenti noi non ripartiamo, non ripartiamo e non ripartiremo se non si mette attenzione e vigilanza anche a che i denari che arriveranno e saranno tanti in questa città prendano i canali giusti cioè quelli della ricostruzione pesante a partire dall'asse centrale e non se ne vadano per rivoli diversi come in passato purtroppo stava accadendo e come noi più volte abbiamo dovuto denunciare Parliamo allora della situazione delle scuole, c'è ancora questa situazione provvisoria le scuole elementari, medie e superiori comunque dovranno in qualche modo tornare piano piano a una situazione più normale, magari non nel breve termine come prima del terremoto però sistemazioni diverse da quelle attuali Sì, la scuola dell'Aquila e del suo territorio purtroppo soffre, io lo dico anche da dirigente scolastico è veramente una situazione di emergenza perché questi moduli MUSP, moduli ad uso scolastico provvisorio cominciano a mostrare tutti i loro limiti perché sono strutture appunto provvisorie Noi vogliamo sapere, e di questo appunto interroghiamo anche il Ministero per quello che è di sua competenza ma tutti gli organi competenti, quando si potrà ricominciare a costruire, a pensare alle scuole definitive perché poche sono le scuole che dopo il sisma sono potute entrare nelle loro sedi molte sono invece in questi moduli provvisori è stato fatto un grande errore sull'Aquila che è stato quello di fermare i dimensionamenti previsti dalle norme del Ministero perché questo? Perché questo ha fatto sì che molte scuole non avranno nel prossimo anno scolastico il dirigente fisso e probabilmente nemmeno il DSGA che sarebbe il vecchio segretario scolastico è chiaro che sono contro i dimensionamenti perché le scuole andrebbero dimensionate in maniera più ridotta ma se si debbono fare, allora tanto vale farli nel momento in cui è necessario piuttosto che rimandare di un anno perché noi non sapremo adesso che cosa succede nell'anno scolastico 2012-2013 ancora non abbiamo monitorato bene il flusso degli studenti non sappiamo ancora quante classi saranno autorizzate ma sappiamo una cosa invece fondamentale che in queste condizioni la scuola sta attraversando un momento di estrema difficoltà e rischiamo di perdere ancora alunni rispetto a quello che già abbiamo perso in questi tre anni non si può rimanere in queste strutture a tempo indeterminato bisogna che si cominci a vedere qualche segnale di ricostruzione o di nuova costruzione delle vere scuole che possano essere funzionali al sistema educativo del nostro paese Parliamo un po' di questo termine di cui non si sa se si sta abusando però la partecipazione dei cittadini alla ricostruzione, alla politica e a tutto ciò che riguarda questa città così in difficoltà anche su questo aspetto, tra le mie deleghe iniziali quando sono diventato assessore nella prima giunta cialente c'era anche quella della partecipazione e noi la partecipazione la facciamo con i fatti, altri la fanno a chiacchiere già allora io ho riunito per la prima volta tutti gli abitanti, tutti i cittadini che vivevano nelle case popolari per parlare con loro dei problemi, qualsiasi problema veniva affrontato partendo dalla base quando sono diventato assessore al commercio la prima cosa che ho fatto è sentire tutte le associazioni di categorie cioè l'ascolto dei cittadini è stato per noi prioritario il regolamento che abbiamo varato in Consiglio Comunale e che è stato approvato anche con mille difficoltà è stato anch'esso condiviso con tutta la popolazione del nostro territorio facendo cinque incontri nelle frazioni e nella città dell'Aquila da parte del nostro assessore ora questo strumento è a disposizione di tutti ma noi le cose le abbiamo fatte altri invece parlano di partecipazione, hanno continuamente altre forze politiche anche di queste che si sono formate adesso in questi ultimi tempi dicono che vogliono attuare la partecipazione e noi l'abbiamo fatto e quindi ritengo necessario e chiedo per questo il sostegno dei cittadini perché una presenza comunista all'interno del Consiglio Comunale dell'Aquila è fondamentale perché noi in questi anni, in questi cinque anni sia quando siamo stati in maggioranza sia quando siamo stati all'opposizione siamo stati un pungolo per l'amministrazione attiva quando siamo stati noi al governo ce lo siamo portato avanti come il nostro sistema di conduzione dei nostri assessorati e così vogliamo continuare a fare noi chiediamo fiducia perché di noi credo che i cittadini alla luce dei fatti possono veramente fidarsi grazie grazie